Ciao amici, stasera faremo uno scherzo telefonico a Maximiliano Allegri State pronti, restate lì, perché chissà che cosa ci dirà Guardate, mi fingerò... Guardate Pronto, chi parla? Pronto, sono il giardiniere del Milanello, stavo cercando una persona, se magari lei me la può indicare Noi siamo in due, però noi volevamo sapere da lei se ci poteva dare una mano, sinceramente Non è successo niente, ma noi siamo qui perché volevamo mettere a posto un po' per gli allenamenti quando ritornate E quindi volevamo sapere un po' da lei... Guardi, devo aver sbagliato, persona, perché io sono allenatore in Milan Comunque non si a me decide il compito suo e dei suoi colleghi Io faccio il migliore e penso al suo, arrivederci eh Arrivederci, scusimi tanto... Grazie a tutti... Grazie a tutti... Grazie a tutti... Grazie a tutti... Grazie a tutti...